La fattoria Il Palaggio accoglierà il vostro banchetto nelle sue incantevoli sale e nella sua antica e suggestiva cantina del Seicento. Immersa negli affascinanti scenari della campagna toscana, qui troverete esperienza, professionalità e un'ottima cucina. Le splendide sale interne di questo ristorante, ampie, confortevoli ed eleganti, accolgono fino a 280 invitati. Vi è anche l'opportunità di ospitare il vostro banchetto in una deliziosa antica cantina risalente al Seicento. La struttura è immersa in uno splendido parco secolare, luogo ideale dove allestire favolosi banchetti all'aperto dallo stile romantico e shabby. L'esperienza dello staff, che dura fin dal 1986, unita alla passione per la buona cucina, fanno di questa location la scelta ideale per il vostro ricevimento nuziale, ma potrete anche prolungare la vostra permanenza in un rilassante soggiorno immersi nella natura, alloggiando in una delle bellissime stanze della struttura. La cucina di La Fattoria Il Palaggio vi sorprenderà con ottimi piatti che portano a tavola il meglio della tradizione culinaria locale e regionale, esaltando i sapori e i profumi della Toscana. La Fattoria Il Palaggio vi offre la formula perfetta per un ricevimento da favola. La Fattoria Il Palaggio di La Fattoria